ciao a tutti benvenuti sul canale in questo video trasformiamo un esus un portatile gli togliamo il disco da un terabyte e mezzo e lo trasformiamo in usb esterno e gli installiamo un ssd samsung da un terabyte buona visione grazie 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 come avete visto l'apertura del cover sottostante è abbastanza semplice e basta smontare qualche vite si trovano i componenti principali lì a disposizione quindi il computer costruito molto bene il cambio dell'ssd in vero e proprio è stato veramente banale ci ho messo un po di più per fare la clonazione ho utilizzato un software proprietario samsung che mette a disposizione sul sito per poter fare il trasferimento alla clonazione in questo caso veniamo da un disco originale da un terabyte e mezzo e andiamo su una destinazione ssd da un terabyte e questo ha reso le operazioni un po più complicate perché abbiamo un disco più grande di origine e un disco più piccolo di destinazione non è complicatissimo però non si è potuta fare la clonazione al volo quindi ho dovuto utilizzare il software in questo caso ho voluto utilizzare il software della samsung ho scelto apposta l'ssd samsung per fare già sapendo a che cosa andavo incontro per essere il più veloce possibile senza andare a fare esperimenti infatti dopo quattro ore è stato clonato tutto il disco c poi ho attraverso il disco usb ho riversato tutti i dati che c'erano sulla seconda parte partizione che aveva creato il proprietario per cui anche questa trasformazione è passata liscia è stata molto semplice tranne qualche ora di lavoro che comunque il computer andava avanti da solo ci vediamo alla prossima trasformazione nel laboratorio ciao a tutti